Posso attaccare? Fischia l'arbitro contro i passi in Tavano, il tiro di Tavano di Gregorio. Stava morando, suscita l'amministrazione per, molto meno via per, attenzione, un colore dentro per Cattavio, 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 Cattavio! Roch alla contesa, un numero numero 30, Luca Cattavio. Tavano che rientra e tira! Bentivegna e Cardoziano,ентовano Bens! La pallina secondo il pallino? Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.